Ciao e bentorni sul canale! Non volevo, io volevo fare le sorpresine del Mac ma io l'ho rietato e gli ho detto che dovevano fare questo le principesse fake che non sa, io non ho ancora capito se sono... Le principesse disney? Esatto disney fake però io non ho capito ancora se sono loro da piccole o loro da grandi perché c'è il retro e il davanti si contraddicono la vicenda? Cozzano e soprattutto io vorrei capire se sono bello o brutto perché con questi fake abbiamo trovato di tutto e di più Abbiamo pagato sui 4 euro e andiamo a vedere, nel fake lo riconoscete, sono sempre le carce Uffa, volevo avere! E invece non è a rinagare, l'hai tastata per mezz'ora con le buste Però devo dire, raga ma sapete... Possiamo vedere anche noi qualcosa! Sapete che le carce sono belle? Guarda, guarda! Lenticolare! Anche quella? Sono tutte lenticolari! Sì, leggermente plastificate si intravede una specie di filigrana Di fiorellini tipo... Di fiorellini e qui abbiamo... Aurora, le principesse... Aurora e cenerentola e abbiamo trovato... Posso dire che onestamente? Onestamente! Sì, onesta eh! È brutta? È brutta, ok! Ma non è così brutta! Ma non è così brutta! Eh abbiamo... Perché è fatta... Non è fatta malissimo Allora... Cioè, dai raga, ne possiamo parlare! Non è Disney vederla così Però hai ragione! Non è così brutta! Diciamo che non si sono sprecati sui colori Qualche colorino in più potevano utilizzarlo, almeno sulle parti azzurre Però almeno abbiamo capito che... È un monocromo dalla testa ai piedi di vestito Però... Ma corrisponde? Almeno abbiamo capito che... Qui è leggera verde nella cosa già qui Però almeno abbiamo capito che questa... Cioè, che sono loro da piccole, non loro da grandi Allora... Di buona fattura! Diciamo che se fosse stato Disney con qualche colore in più Non ci saremmo lamentati! Sì, soprattutto le labbra nere, cioè... È un po' emo! È un po' emo! Esatto! Non penso che Jasmine avesse le labbra nere, anzi... No, però... Penso che avesse un bel rosetto Il vestito sollevato... Insomma, lo sculpt della statuina è fatta bene È completamente rigida, non è snodabile E non è... Ma sai che in realtà qua... Qua... C'ha il rosetto nero? E allora, boh, sarà... Ringraziamo i nostri amici che sono fuori a giocare a calcio E stanno facendo un sacco di confusione Li salutiamo dall'alto del nostro quarto piano E, come sempre, vi ricordo... Eh, perché facevano rumore, scusate... Sentite... Forse si sentono sottofondo Vi ricordo di iscrivervi al canale e smettiti di giocare con questa cosa che è mia È bellissimo! Ve lo faremo vedere! Noi, glielo ho fatto comprare io! Va bene, lo vedete, è una cosa blu fatta a tubo che passa da parte a parte Con glitter! Con glitter! Vi ricordo di iscrivervi al canale, metto un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per essere giocati su tutti i video E come sempre... Noi vi salutiamoci e vediamo al prossimo video! Ciao!